Sicuramente quello che mi piace di più e che mi stimola ogni giorno è la varietà dei progetti che lavoriamo qua e nell'agenzia che permette di esplorare sempre nuovi territori senza mai annoiarsi. Penso che le persone nuove che vengono a lavorare qua non devono avere paura di mettersi alla prova, di mettersi in gioco e di sempre chiedere aiuto ai più esperti per così poter crescere e apprendere ogni giorno qualcosa in più.